Vediamo quello che loro vogliono farci vedere. Ci giudicano incapaci di accettare la verità. Via libera! E forse hanno ragione. Ehm... Mu? Otis, prima o poi dovrai crescere. Io mi vorrei anche divertire. Regola numero uno, non si muota nello stagno. Mucca pazza! Regola numero due, non si guarda la televisione. Per regola numero tre, stare in piedi su due zampe è permesso solo se non ci sono umani in giro. C'è una mucca qua fuori. Questo è un allevamento. Per forza ci sono mucche. Otis, sì, coyote! Ehi! Scusa, mi scappava, sono agitato. Quello che succede nel cortile... Andiamo! Resta nel cortile. Visto che siete duri d'orecchi? È la nostra macchina! Quattro fu! Un po' meno! Ci siamo! Barnyard. Beh, mettiamoci al lavoro. No! Scusa! No! 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 Grazie.